C'è un fulmine a Celserena, non si non se l'aspettava, ho accettato. Ho accettato perché c'è un ragionamento. Questo non è un rimpasto, ma è una presa di posizione di una staffetta, di un lavoro di squadra che bisogna realizzare. Per cui io ringrazio Felice, perché è lui che mi passa il testimone, come ringrazio gli altri assessori, perché fa parte di un progetto comune. Io facevo parte anche del comitato scientifico, che l'abbiamo dimezzato, per cui ormai non esiste più, no, sto scherzando. Per cui rappresenta una continuità. Questa è la cosa che io ci tenevo particolarmente a dire. È un lavoro di squadra che dobbiamo fare tutti insieme per il bene della città.